Buonasera dal TG1, è stato un agguato pianificato quello degli ultra dell'Inter contro i tifosi del Napoli. Durante gli scontri, prima della partita di ieri sera a San Siro, un supporter nero-azzurro è morto travolto da un SUV. Tre le persone arrestate, almeno nove gli indagati. Al TG1 parla il padre della vittima e dice che non si può morire così. Polemiche nel mondo del calcio dopo le violenze e i cori razzisti. Sì, tolleranza zero ma sabato si giocherà, questo è l'annuncio del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. L'inviata Stefania Battistini. Ci sono ancora le spranghe a terra, i punteruoli e i fumogeni il giorno dopo la guerriglia urbana, a pochi metri dal luogo in cui è morto l'ultra dell'Inter. Questi sono i resti dell'agguato, c'è un martello, un macete. Eccoli ieri, viso coperto, bassone in mano, un'ora prima di Inter-Napoli, a due chilometri dallo stadio. Assaltavano i minivan con a bordo i tifosi del Napoli. Sono più di cento, oltre a interisti, secondo la Digos. Un'ora di guerriglia urbana racconta che ha aperto le porte per far mettere al riparo le famiglie coi bambini. Abbiamo visto proprio delle ondate di fiumane di gente che cercava rifugio. Terrorizzato, terrorizzato, spaventati. Proprio qui davanti c'erano questi ragazzi giovani, comunque vestiti scuri, con le mazze, con le cinghie. Venuti per fare danno. Proprio danno, proprio premeditate, perché questi avevano già le mazze, le cinghie in marcia. Non avevano colori di squadra. Io li vedevo solo vestiti di nero. Uno di loro cade in mezzo alla strada e viene schiacciato da un SUV, portato a braccia all'ospedale San Carlo. Non ce l'ha fatta, è morto nella notte. Daniele Berardinelli, 39 anni, volto noto alle curve, a capo dei Blue and Honor, frangia l'estrema destra del Varese, gemellato con l'Inter, precedenti per reati da stadio, diversi da su alle spalle. L'ultimo nel 2012, durante l'amichevole Como Inter. Altri quattro tifosi napoletani feriti. Agguato pianificato, insieme agli ultra del Varese e del Nizza, questi ultimi, secondo gli inquirenti, cercavano vendetta. Perquisizioni nella notte. La Digos ha arrestato tre persone, ritenute a capo del commando. Non fagli l'autopsia. Per capire... Sì, la dinamica. Come succede? Gli dice che lui scappava, questa macchina gli è andata dietro, l'ha investito. Per ora, insomma, sono solo voci. Voci. Magari è stato un incidente, non è che dico che proprio ce l'aveva con lui. Uno va a vedere una partita in Santa Pace, sa che va, però non sa se torna. Sembra che fossero arrivati, insomma, con le spranghe. Forse era in mezzo nella mischia, ma penso che lui non era con le spranghe. Ha dei precedenti specifici per reati da stadio, per Daspo. Beh, ormai lo sapete che ha avuto il Daspo. Lo dico chiaro, era un casinista, era un tifoso. Però un tifoso non violento. Da padre era un bravo ragazzo. Secondo me si è sempre comportato bene. Sarà stato un po' violento quando vai in quei posti lì, ma... Il ricordo di mio figlio è bello. Un'azione squadrista, così il questore di Milano ha definito l'assalto dei tifosi interisti chiedendo la chiusura della curva e il divieto di trasferti. Il calcio è stato ferito due volte, afferma il presidente della Federcalcio. Ma lo avete sentito, lo abbiamo detto in apertura, sabato si giocherà. Perla di poppa. Quest'azione squadristica è avvenuta in modo ignobile e in modo assolutamente non preventivabile. È indignato il questore di Milano. Parla da dirigente della polizia e garantisce che assicurerà tutti i responsabili alla giustizia. Ma parla anche da sportivo, da ex arbitro di Serie A. Le sue richieste al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, annuncia, saranno durissime ed esemplari. Richiederò che i tifosi dell'Inter non dovranno andare più in trasferta per tutto il campionato. E inoltre domani mattina al Comitato richiederò l'immediata chiusura della curva dell'Inter fino al 31 marzo del 2019. È scosso il calcio italiano che ancora una volta si vede riflesso in un'immagine violenta e razzista, ostaggio di tifoserie dispotiche. Secondo i dati del Viminale, i feriti e gli scontri sono calati, o meglio, si sono spostati dagli stadi alla strada, nelle vie di accesso agli impianti sportivi. Invoca un segnale chiaro il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che chiede di chiudere le curve piuttosto che fermare le partite, di programmare a mezzogiorno e non la sera gli incontri a rischio. Reclama tolleranza zero il presidente della FIGC, Gravina. Il calcio è stato vittima due volte, dice, dei violenti e dei razzisti. Non si può dar la vinta a loro, per questo è stata presa una decisione sofferta. Ed è quello di andare avanti. Noi il 29 giocheremo al calcio, ci sarà il calcio, e questi soggetti devono essere e devono stare fuori dal mondo del calcio. A tutti voi buonasera e benvenuti al TG2 delle 20 e 30. Un ultra è morto travolto da un SUV a Milano negli scontri prima della partita Inter-Napoli. Il questore parla di un'azione squadristica ignobile da parte di un centinaio di tifosi interisti. Per gli scontri, tre gli arresti, sei gli indagati. Manca un'ora all'inizio della partita. I tifosi napoletani stanno raggiungendo San Siro lungo via Novara. Sul grande viale all'improvviso si materializza un gruppo formato da un centinaio di ultra armati di bastoni, catene, coltelli, i volti coperti da passamontagna. È un vero e proprio agguardo. Un furgone con cinque tifosi viene bloccato. I napoletani scendono e nasce una violenta rissa. Uno dei tifosi viene accoltellato a un fianco. Nel fuggi-fuggi, all'arrivo della polizia, uno degli ultra interisti viene travolto da un SUV che si allontana senza fermarsi. Daniele Belardinelli, 35 anni, capo di una frange estrema degli ultra di Varese, viene portato in auto fino all'ospedale e abbandonato davanti al pronto soccorso. Muore nove ore dopo durante un intervento chirurgico. Gli agenti della Digos di Milano acquisiscono le immagini delle telecamere. Nella notte eseguono una decina di perquisizioni. Nei giardinetti accanto a Via Novara spuntano martelli e macete abbandonati nella fuga. Tre ultranei razzurri vengono arrestati. Nel gruppo che ha organizzato l'agguato ci sono anche ultra del Nizza, un passato di rivalità nei confronti del Napoli.